Il Valle Mercato 2017 è arrivato alla seconda giornata bolognese e il grido dell'Albos Volley è sempre lo stesso Noi non morirei L'amministratore delegato della ricapata volosa Ria Massimo di Ricci spiega le motivazioni per le quali Sora ha tutte le possibilità di non morire e di continuare la sua avventura in questo 73esimo campionato Sicuramente Sora ha tutte le possibilità e opportunità per poter continuare in quel corso che abbiamo iniziato tanti anni fa nel campionato di Serie 2 con la Superlega La Lega fa lavoro, una Lega inclusiva, quindi tende sicuramente a voler mantenere a sé le proprie società e le proprie squadre e certamente buttarle fuori Abbiamo messo la deadline al 29 settembre ma noi le verifiche sul stato di avanzamento dei lavori degli impianti di tutti i club che hanno in questo momento problematiche di capienza lo faremo sicuramente nelle settimane precedenti quindi già per la settembre, il 29 settembre andremo a fare delle visite in loco per capire qual è lo stato dei lavori e anche in questo caso nel momento in cui si vedrà che i lavori sono quasi terminati ma non ancora cerchiamo comunque di accompagnare e di sostenere i nostri club e anche le nostre amministrazioni comunali affinché i lavori vengano comunque terminati per iniziare il campionato senza per questo essere di ostacolo a nessun tipo di procedura, nessun tipo di procedimenti in essere sia di miniatura amministrativa che di miniatura tecnica